Troveranno tante espressioni, non troveranno un bianco banale, non troveranno la solita tempera per imbiancare e coprire i muri, troveranno nuove espressioni per far sì che i muri vivono bene, che loro vivono in un ambiente sano, perché questa è una cosa fondamentale. Troveranno modi da semplici a più difficili, a più particolari, a più creativi per decorare l'ambiente, perché comunque la bellezza ci fa star bene e ci fa vivere bene ed è un altro segno del benessere. e quindi troveranno tanti spunti, sia per il privato da portarsi a casa, sia per l'ufficio, sia per la scuola, sia per l'ospedale, per qualsiasi tipo di ambiente.